Rischio di reiterazione del reato, il padre della dodicenne accoltellata a Chiavari resta in cacere. Fincantieri sabato varo della settima fregata, Frem Federico Martinengo è stata completata presso lo stabilimento di Riva Trigoso. Auto contro mura a Chiavari, l'incidente è successo ieri pomeriggio all'angolo con via Rivarola e via Casaretto in piazza Mazzini, al volante una donna anziana. Buonasera dal TGT Guglio, rischio di reiterazione del reato, il padre della dodicenne accoltellata resta in cacere. Resta in cacere il 42enne equatoriano che domenica mattina ha cercato di uccidere la figlia di 12 anni accoltellandola all'addome e agli atti inferiori nella sua abitazione di Chiavari. Lo ha deciso il GIP Alessia Solombrino dopo l'interrogatorio di garanzia di questa mattina in cui è stato convalidato il fermo di polizia giudiziaria eseguito dai uomini della squadra mobile. Il GIP ha deciso che l'uomo deve restare in cacere sia per il pericolo immediato di inquinamento delle prove, sia per il rischio di reiterazione del reato. Su quest'ultimo punto il suo legale presenterà ricorso al Tribunale del riesame. Ieri il sudamericano, davanti al pubblico ministero Marcello Maresca, aveva raccontato che voleva uccidere la figlia e poi suicidarsi per via di un debito di 15.000 euro con una banda di usurai contratto in Ecuador. Un debito che non riusciva a saldare mentre la banda, alcuni giorni fa, avrebbe sequestrato per alcune ore l'ex moglie e i due figli rimasti in Ecuador. Dopo aver sferrato alcune coltellate alla figlia, l'uomo non è riuscito però a portare a termine il suo piano. Inizialmente ha provato a curare la ragazza in casa per poi decidersi a portarla a Gaslini. Nel frattempo si era inventato la storia dell'accoltellamento in un distributore di benzina in via Teglia a Genova di Varolo, da parte di un nordafricano, versione che non aveva convinto del tutto gli inquirenti. Cambiamo decisamente argomento. È stata completata presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso la settima unità del programma FREM, le Fregate Europee Multimissioni in Costruzione per la Marina Militare. Si tratta dell'imbalcazione intitolata Federico Martinengo che verrà varata sabato 4 marzo alle ore 10 nel cantiere navale della frazione della città di Sestri. Levante, adesso ancora cronaca, Borgarelli con disturbi dissociativi, delitto di craviasco nel comune di Romazzo. Il perito sostiene che l'uomo era capace di intendere e di volere e se provocato perde controllo. Quando Claudio Borgarelli è decapitato il cadavere dello zio Albano Crocco, la sua personalità era caratterizzata da fenomeni dissociativi di depersonalizzazione e pseudo allucinazione tipici di situazioni di così intensa emotività. Lo ha detto nell'udienza fissata per l'incidente probatorio il professor Gabriele Rocca, incaricato dal GIP Paola Fagioni di eseguire la perizia psichiatrica sull'infermiere di 56 anni, che nell'ottobre scorso ha ucciso lo zio dopo mesi di liti per il transito su un vialetto davanti alla sua proprietà a Craviasco nel comune di Romazzo. Rocca ha ribadito che Borgarelli, difeso dall'avvocato Antonio Rubino, era capace di intendere e di volere al momento del delitto, ma ha spiegato che l'uomo ha vissuto il periodo precedente d'omicidio in maniera estremamente lesiva e angosciosa a causa dei dissidi con lo zio. Il GIP ha chiesto al consulente precisazioni relativa alla causa scatenante del delitto, visto che Rocca, nella consulenza depositata, ha parlato esplicitamente di un grilletto scatenato dalle offese che Crocco aveva rivolto a Borgarelli la mattina dell'omicidio. Tutto lo stress precedente, ha detto il consulente, ha scatenato un innesco reattivo, una reazione offensiva motivata dalla provocazione. L'esame approfondito della personalità dell'infermiere studiata in questi mesi attraverso test specifici, eseguiti da uno specialista in numerosi colloqui in carcere da parte dello stesso Rocca, ha confermato come l'uomo, se provocato, tenda a quello che viene definito un discontrollo che può sfociare in reazioni anche molto violente. Dopo l'udienza di ieri, il sostituto procuratore Giovanni Arena, che ha ereditato il fascicolo dal PM Silvio Franz, dovrebbe chiudere a breve le indagini chiedendo il rinvio a giudizio di Borgarelli, che è accusato di micidio volontario aggravato e soppressione di parte di cadavere. Ancora cronaca, doveva custodire l'automobile che sarebbe stata poi confiscata, poiché trovato nel 2010 la guida in stato di ebrezza, ma invece ha deciso di farla sparire. Per questo un 63enne siciliano è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Sestilevante, sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazione degli obblighi del custode, è l'accusa della quale deve rispondere. Il sindaco di Chiavari, Roberto Levaggio, ha firmato un'ordinanza che vieta l'uso di bombellette spray e artifici pirotecnici fino a domenica prossima. L'amministrazione comunale vuole evitare che siano usati in città tali prodotti in concomitanza con il periodo di carnevale. L'ordinanza prevede per i trasgressori una sanzione di 100 euro. Sabato prossimo a Chiavari si trarà una festa di carnevale in piazza San Fronte a partire dalle 14.30. In tale occasione sarà vietata la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nella parte a mare della piazza dalle 6 fino alle 20. E domenica, altra festa di carnevale in piazza Matteotti a Chiavari, abbiamo ascoltato l'assessore Rocca. Il carnevale a Chiavari è per tradizione in piazza Matteotti sinonimo di divertimento, di colore, di festa e speriamo che anche questo carnevale nel 2017 ci sia lo stesso entusiasmo che negli anni passati, negli anni gloriosi, perché no? Quindi invitiamo tutti quanti vogliono divertirsi, mascherarsi sia da soli che in compagnia, sia a piedi che con un carro allegorico a venire da noi qui a Chiavari in piazza Matteotti alle 15 più o meno per divertirci insieme naturalmente domenica prossima perché ci sarà appunto la famigerata pentola pirotecnica con tanta musica prima, con i salti in banchi, ci saranno il mangiafuoco, ci saranno gli acrobati e soprattutto ci saranno tante tantissime maschere, tutto poi col culmine della pentolaccia appunto e di tante caramelle per i più piccini. Quindi come Comune di Chiavari vi aspettiamo. E adesso vi facciamo vedere delle fotografie, un incidente stradale dalla dinamica particolare si è verificato a Chiavari nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Mazzini all'angolo tra via Rivarola e via Casaretto protagonista un'anziana che al volante della sua automobile è finita sul marciapiede per poi andare a sbattere contro il muro fortunatamente in quel momento non transitavano pedoni ed anche la donna e la persona che era con lei non hanno riportato gravi conseguenze sul posto per i rilievi del caso e per coordinare le operazioni di rimozione del mezzo è intervenuta la polizia municipale. Il consigliere regionale della Lega Nord Alessandro Pugioni ha presentato un'interrogazione per segnalare che a Seste dell'Elevante dopo la chiusura dell'Aurelia è notevolmente aumentato il traffico in via Terzi via Nazionale e via Ledante e chiede che ARPAN intervenga per un monitoraggio dell'inquinamento in zona. Sul tema aveva già presentato un'interrogazione consigliere comunale Albino Armanino del gruppo Futuro per Sestri e l'amministrazione comunale aveva risposto che non risultavano effettuati studi relativi alla qualità dell'area da parte degli enti competenti. Adesso andiamo al calcio, giocatori motivati, quelli della Villetto Sentella squadra che dopo il pareggio di ieri sera col Vicenza 2 a 2 si trova da un punto dai playoff della B e quindi non resta che motivare i tifosi. Ecco dunque la prima puntata della campagna 6 l'uomo in più una serie di video creativi caricati su YouTube che hanno come protagonisti i tifosi bianco celesti. Nel primo video diffuso in rete oggi in vista della partita col Bari di sabato Stefania, tifoso molto vicino alla squadra, prende il posto di Roberto Breda negli spogliatori con tanto di sciarpa e pallone e carica i giocatori che risultano molto attenti. Allora vediamo questo video. Ragazzi, io non sono al Pacino e questa non è una maledetta domenica, anche perché la serie vi gioca di sabato, ma una cosa voglio dirvela lo stesso. È vero, Chiavari è una piccola città, ma la passione per voi cresce ogni giorno di più, ogni partita di più. Noi tutti siamo qui per voi, perché vogliamo essere il vostro uomo in più. Perciò noi adesso scendiamo in campo insieme e insieme proviamo a vincere, va bene? Roberto, sono tutti i tuoi. Grazie mister. Bene, non è arrivato Antonio Cassano, è arrivata la signora Stefania. E concludiamo con notizia proveniente da Rappallo. Proseguono a Rappallo i lavori sulla pagana per la realizzazione di un nuovo maciapiere tra via Brigida Morello e piazzetta Sovrano Militare Ordine di Malta. Resta dunque il cantiere sul lato levante della strada in direzione Santa Margherita Ligure e il dirigente della Polizia Municipale di Rappallo ha firmato una nuova ordinanza che proroga le modifiche alla circolazione veicolare e pedonale in un primo tempo previste fino alla giornata di ieri. La nuova ordinanza resterà in vigore adesso fino al 31 maggio e prevede il divieto di transito per i mezzi pesanti, un senso unico alternato per tutti gli altri veicoli con limite di velocità massimo di 30 km orari e il divieto di transito pedonale nel tratto di strada interessato dai lavori. Per i pedoni il percorso alternativo è rappresentato da salita bianchi via Gimelli e Viale Piaggio. Domenica 5 marzo a partire dalle 10.30 presso l'ex convento dell'annunziata Sesti Levante si svolgerà la manifestazione una meravigliosa domenica da cani. Dal titolo si può facilmente intuire che sarà una giornata dedicata agli amici a quattro zampe. Da chi è organizzato e di cosa si tratta? A conferma della bella sinergia che è nata a Sesti Levante tra tre diversi soggetti in primis Fido Libero in collaborazione con The Hub e la farmacia centrale di Sesti Levante abbiamo deciso di proporre alla cittadinanza e perché no anche i turisti di Sesti un'altra iniziativa dal titolo una meravigliosa domenica da cani. Il tutto sarà in primis organizzato e come dire seguito da Veabe con la sua presidente Carmen Falcone di cui poi avremo nel dettaglio più specifico ciò che avverrà nella giornata e per noi sarà invece come Fido Libero un momento intanto aggregativo un momento anche perché no di cultura rispetto al cane con esibizione di dog agility con la presenza di esperti proprio del cane che saranno a disposizione delle persone per dare tutte le informazioni possibili e sarà anche un momento come dire di cultura di aggregazione sociale a cui noi teniamo molto anche perché può essere un'occasione per rinnovare la testa dell'iscrizione di Fido Libero per il 2017 sono i nostri punti principali con cui poi andare a investire e fare le migliorie necessarie nelle diverse aree sul territorio in collaborazione naturalmente col comune di Sesti Levante e l'amministrazione. Colgo l'occasione proprio per informare i nostri iscritti che i prossimi interventi saranno come dicevo ad esempio la rifinitura della recinzione alla prima area per cani sorta nel 2011 in via Lombardia poi avremo anche occasione di fare gli interventi al Parco Mandela per abbellirlo e renderlo in sicurezza con una doppia entrata ecco tutto questo comunque sempre in collaborazione e grazie al contributo dei nostri iscritti durante la giornata ci saranno dei giochi a premi ci sarà anche un corso di primo soccorso comunque la giornata è abbastanza ricca la giornata è ricchissima intanto mentre lui ha accolto l'occasione per io colgo l'occasione per dire che l'associazione culturale The Hub che si occupa di arte, cultura e educazione civica finalmente è ben felice di riuscire a collaborare per la parte di educazione civica non per la grossissima parte di cui si occupa Fido Libro appunto con Fido Libro per quanto riguarda l'educazione cinofila e dunque nello specifico il giorno 5 marzo in una meravigliosa domenica da cani che inizia alle 10 e mezza del mattino con l'esibizione cinofila di tre centri che hanno aderito ai nostri inviti che sono AA Dog School di Lavagna con la dottoressa Silvia Sturla DJ Dog e Scadog insieme perché ormai sono diventati un corpo unico con Gemma Olivieri e Just Dog che già collabora con la farmacia centrale e con Fido Libero da un anno circa esattamente con Patrizia Mendicino faranno loro, si esibiranno ma soprattutto vorranno dimostrare che cosa sono riusciti a ottenere con i cani proprio con l'educazione, con il gioco attraverso appunto queste piccole garette questi piccoli percorsi di agility col clicker insomma tutte queste piccole dimostrazioni infatti non sarà una vera e propria esibizione per far vedere cosa sanno fare loro bensì sarà una dimostrazione per dimostrare che cosa possiamo fare noi comuni mortali con i nostri amici a quattro zampe da lì seguirà, se ci saranno bambini con i loro cani una vera e propria gara seguiti dagli istruttori che hanno prima dimostrato tutte le loro esibizioni una gara e verrà cercato il Dog Factor nel cane e nel bambino e quindi sarà una vera e propria gara a premi e i premi sono messi a disposizione dalle amiche di Charlie che era un negozio della nostra amica iscritta a Fido Libero che è Pamela dopodiché alle 13 c'è una pausa pranzo che per chi vuole potrà essere consumata o sulla terrazza del Fico se non piove ma sappiamo che piove e oppure all'interno del Tapullo con una convenzione speciale evento a 10 euro anziché 14 euro speciale tagliere Tapullo e calice di vino Bibita e a richiesta anche tagliere vegetariano o vegano perché oggi insomma il vegetariano e vegano è una grande scelta soprattutto fra noi amici degli amici a quattro zampe bene alle due e mezza il pezzo forte della giornata infatti questa domenica completa dalla mattina alla sera nasce proprio perché un collage di due eventi messi insieme perché? perché una meravigliosa domenica da cani in realtà è un evento rinviato dal 15 gennaio al 5 marzo causa maltempo abbiamo cambiato la data e la location abbiamo messo la mattina l'esibizione cinofila che doveva essere il 15 gennaio e il pomeriggio il pezzo forte che è un seminario di primo soccorso veterinario aperto a tutti assolutamente a tutti a cura del dottor Palermo del CTO veterinario di Arenzano che è uno dei centri più importanti a livello della Liguria è una cosa importantissima perché i principi del primo soccorso è riconoscere le condizioni di emergenza più comuni nel cane emergenze neurologiche traumatologiche del cane allora l'incontro ha lo scopo di fornire nozioni di base nel riconoscimento delle più comuni emergenze veterinari al fine di poter assistere al meglio il nostro cane e quindi sapere cosa fare e non fare nell'attesa dell'intervento del veterinario questo secondo me è un evento meraviglioso è importantissimo è anche formativo e tutta la cittadinanza secondo noi è assolutamente giustissimo che intervenga perché così si evita di andare sempre dal veterinario anche per un respiro io per un corso di primo soccorso cinofilo ho salvato lei quindi per me è importantissimo tutta questa grande giornata non l'abbiamo detto manlio ma abbiamo avuto la possibilità di realizzarla grazie all'intervento di chi l'ha sostenuto è fortemente voluta e sono Ilse che è una ditta di nutrizione per i cani Remax che è un'agenzia immobiliare Bed & Breakfast Mamma Isola Eta Pollo Parrucchiere Giuseppe di Sestri Levante in centro e Entella TV che insomma ci fa ci dà la possibilità di fare la pubblicità grazie a tutti e intervenite numerosi Volevamo aggiornare per quanto riguarda il nostro progetto abbiamo un sogno di donare una casetta questo progetto è partito intorno all'11 di gennaio e siamo arrivati appunto ad oggi avendo raccolto un pochino più di 14.000 euro la novità più importante di cui vi volevamo informare è il fatto che ieri abbiamo versato la conto per la prima casetta di 1.980 euro naturalmente la casetta verrà poi saldata alla consegna quindi stiamo parlando di una casetta di un costo di circa 9.900 euro più 350 euro di trasporto da qui si deduce che una volta saldata la casetta avanzeranno ancora dei soldini e a questo proposito abbiamo deciso di provare a raccogliere ancora qualche donazione e entro la metà di marzo chiuderemo il progetto sperando di riuscire a comprare anche una seconda casetta magari più piccolina sicuramente però stiamo provando a raggiungere questo secondo obiettivo quindi fino alla metà di marzo avete la possibilità di donare ancora se avete piacere e provare insieme a noi a vedere se riusciamo a raggiungere anche questo secondo obiettivo dobbiamo ringraziare prima di tutto l'asilo di Santa Giulia la maestra Elena che si è molto adoperata per organizzando una festicciola una rappresentazione teaterale eccetera e sono stati raccolti 530 euro e donati al nostro progetto ringraziamo anche la scuola Davigo di Rapallo che comunque ha voluto i ragazzi hanno organizzato una merenda solidale e per la seconda volta hanno donato grazie anche all'aiuto della professoressa Decisee e Carleo 650 euro in più in programma abbiamo diversi appuntamenti il ristorante Sole e Luna qua a Lavagna ci ha contattato e avremo faremo l'otto marzo una pizza del cuore dove l'importo sarà interamente donato il nostro progetto quindi prenotatevi se volete mentre a metà marzo il 17 marzo ci sarà una rappresentazione teatrale nella chiesa di Maria Madre in Corso Genova con la compagnia I Ruspanti ringraziamo ancora anche l'asilo di Cavi e le scuole Don Gnocchi di Lavagna che anche loro sono presenti con delle donazioni e hanno aderito al nostro progetto grazie mille bene non mi resta che lasciare le previsioni in media per la giornata di domani e la programmazione di Entella TV ricordo che l'informazione locale della nostra emittente tornerà domani alle 12.45 alle 14.15 con il TGT Guglio Gente quindi con Marisa Spina mentre in serata andrà in onda il TGT Guglio tradizionale alle 19.30 e alle 22.45 grazie per l'attenzione a domani previsioni per domani giovedì 2 marzo nubi dense su centro e levante accompagnate da deboli piogge per lo più limitate allo spezzino a ponente mattinata di sole con aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio venti moderati in prevalenza da nord-est su centro e ponente da sud-ovest su levante mare a ponente molto mosso in calo in serata a levante agitato al mattino con marreggiata poi molto mosso umidità su valori medi le temperature previste sulla costa tra 11 e 16 gradi nell'entroterra tra 8 e 12 gradi a la ha a Grazie a tutti.